L'ascolto di questa puntata è offerto da Carnidine, l'energia che fa per te. Gli stancano visti. Lavorare stanca. Siamo qui da tanto, tantissimo tempo. Quando siamo arrivati noi, la socia fondatrice, la performante Giorgia Lombardi, tutta slang e tac, fatturare, probabilmente dormiva ancora con il peluche sotto il cuscino. Bei tempi, quelli. Anni fa, qui, c'era la sede di un centrolistico dove la gente entrava stanca e usciva addormentata. Bei tempi. Oggi, invece, circola gente strana, tipo l'account manager dell'agenzia. Un bambolone tutto pettorale e risobasmati condito con proteine e tanto ego. Avete presente il maschio alfa che si ammazza di palestra, ma se c'è da fare un piano di scale rinuncia e torna a casa? Ecco, proprio lui. Se c'è una botta di fortuna che gira da qualche parte, lui ci sbatte contro e se la prende, ma senza rendersene conto. Un nervoso... Eh, per fortuna c'è anche lei, Sonia. Lei sì che sa che cosa vuole dalla vita. A 16 anni ha capito che la scuola non le piaceva e via a lavorare. Ausiliare del traffico, modella, promoter, segretaria, meccanico, maestra di yoga. E potremo continuare ancora. Oggi è la grafica dell'agenzia. Certo, la ragazza è un po' debole di congiuntivi, ma cultura è anche saper cambiare la coppa dell'olio senza scheggiare la French Manicure, o no? Oh, ecco che arriva anche Matteo, il social media manager. Sempre con calma, eh? Ehi, numero uno, posso svelarti un segreto? Le sue battute sono tra le peggiori della storia. Quasi erano meglio quelle del centrolistico. Però, oh, a me fanno ridere. E l'ultima all'appello è Mara. Eccola. Arriva sempre dopo tutti ed è la prima ad andar via. È una portatrice sana di cinismo e rancore. In riunione non fa in tempo a bersarsi un bicchier d'acqua che già ha zittito Fabio e corretto Sonia. Poi sorride a tutti e se ne va canticchiando. Noi la adoriamo. Oh, parla per te. Ah, e poi ci siamo noi. Non ci siamo ancora presentati, scusate. Noi siamo quelli che tutto vedono e tutto sanno. Noi siamo i muri di questi uffici. È una cosa, ve la dobbiamo dire subito. La gente che lavora qui potrà sembrarvi singolare. Spesso parla una lingua strana, dice cose come brief, pitch, mood, target, claim. Ma in fondo, è gente normale. Forse. Volete un consiglio spassionato da Muro Superpartes? Se non capite quando parlano, voi dite, eh? E alla peggio vi rispondono. Però in inglese. O qualcosa che gli assomiglia. Buongiorno, signori. Good morning, Georgia. Buongiorno, direttora. Ciao, boss. Come ogni lunedì, faremo un progress sullo status dei progetti della nostra company, in modo da essere tutti allineati con un retro timing top. Mara, mi sono persa progress. Georgia sta facendo il punto della situazione. Stamattina ci è arrivata quella che potrebbe essere la più grande big opportunity dell'anno. Per questo vi voglio tutti sul pezzissimo con il nostro nuovo cliente, che è... Spans, eh? Curiosi, eh? Matteo, ma ieri sera sei stato alla pizzeria che ti avevo consigliato. Sì, Fabio. Ci ho portato Sonia. Ma parlate piano, eh? Mi sto ancora svegliando. Ti sento che fremete. Il nostro nuovo cliente è... È... Bottega Nordica. Bottega Nordica è un'azienda leader nel settore del light entertainment. Bottega Nell? Sai che non ho capito? Produce giochi per adolescenti. Ed è qui che ti sbagli, Mara. Bottega Nordica lancerà sul mercato il primo device anti-stress con intelligenza artificiale. Una sfera elastica che puoi scagliare sul muro, usare come un massaggiatore del palmo della mano e addirittura, grazie ad una sofisticata tecnologia, ti ascolta, ti parla e ti fa sfogare. Se necessario, ti dice pure le barzellette. Se impara a cucinare, me la sposo. Beh, ragazzi, la sfera parlante ed è fatigante. È un prodotto che si vende da solo. Fabio, questo è un cliente importantissimo e tu dovrai seguirlo come fosse un figlio. Cioè, come il tuo personal trainer segue te. Capito? Come sempre. Non ti denuderò. Mi aspetto il massimo da tutti voi. Contaci, capa. Considero già fatto, anzi, fatturato. Allora, andate e create la miglior campagna di sempre per il nuovissimo. Svan Drustullaren. Che? A volte un nome difficile può celare una grande idea. E se l'idea è davvero grande, il nome è solo un dettaglio. Ma a chi vogliamo raccontarla? Svan Drustullaren non si può sentire. Probabilmente in svedese significa tipo fesso chi legge, oppure Babbo Natale non esiste. Comunque, sono le 23 passate e i nostri eroi stanno ancora cercando l'idea wow per il lancio della pallina scaccia stress. Ecco, si potrebbe chiamare così pallina scaccia stress. Eh, se solo noi muri potessimo parlare. Fabio, ma tu hai provato a convincere Bottega Nordica a italianizzare il nome del prodotto? Ma secondo te non vogliono sentire ragioni. Per loro la lingua madre deve rimanere invariata. Mi hanno breffato per un'ora sulla responsabilità, in quanto svedesi, di diffondere la loro lingua nel mondo. Ed è tipo una missione. No way! I missionari svedesi non ci volevano proprio. A proposito, sapete cosa dice una svedese alla fine di un pranzo luculliano? Stoccolma! Stoccolma! Luculliano! Che carino, inventi le parole! Luculliano! Ma chi te l'ha detto a stavridere la pallina? Ragazzi, io non so voi, ma io sono a pezzi. Entro domani sera dobbiamo consegnare a Giorgia una bozza di idea e ancora non abbiamo neanche imparato a pronunciare il nome del prodotto. Io ho saltato anche la prima lezione di Aerocomba. Ve l'ho detto, io mi ricarico solo con la palestra. Io coi Sudoku. A scuola era una frana in tutto, tranne che in matematica. Comunque Fabio, se vuoi ti do un'infarinatura io. Ho insegnato Aerocomba a T-Nigeria quando facevo la missionaria. Sonia, ma tu sei piena di sorprese. Ma davvero hai insegnato aereo come si chiama in Africa? Sì, quando mi sono licenziata dal lavoro di elettrosaldatrice a Nuova Delhi. E subito prima di iniziare a fare la Statman a Hollywood. Oh ragazzi, basta divagare. Impariamo almeno il nome del prodotto. Ripetete con me. Svan-dru-stul-laren. Svan-dru-stul-laren. Ancora una volta. Svan-dru-stul-laren. Accidenti, è più facile da usarsi che da dirsi. Genio, hai trovato il claim. Quale? Accidenti? No, è più facile da usarsi che da dirsi. Ragazzi, ce l'abbiamo. Ottimo. Allora, buonanotte. Beh, io avevo la soluzione già da un po', ma ecco, volevo lasciarvi il piacere di pensarci per provarci almeno, no? Nel senso che... Ragazzi? Ragazzi, aspettatemi! Oh! Ragazzi! Ehi! Ehi! Aspettatemi, ragazzi! Buongiorno, Tim! Ho una notizia croccante per voi. Giorno... Ah, abbiamo fatto le ore piccole. Avete certe facce. Dai, che tra pochi giorni arriva il nuovo stagista! Siamo rimassi fino a tardi a fare brainstorming. A trent'anni fai la lunga in discoteca, ti fai una doccia e sei pronta per andare al lavoro. A quaranta fai mezzanotte in ufficio, ti fai una tisana e sei pronta per la neuro. Ma ha ragione, siamo esausti. Però le nostre fatiche non sono state vane. Vero, boss! Abbiamo partorito un claim pazzesco per la sfera calmante. E bravi, i miei piccoli staccano! Vai, Mara, spara! Sei pronta? Svan drustullare! È più facile da usarsi che da dirsi. Che ne dici? Ma è super! Wow! È catchy, coinciso, coerente, in target, eh? È sbagliato, ragazzi. È che ho sentito Bottega Nordica e ieri sera hanno preso una decisione. Il figlio del CEO si è appena mollato con la fidanzata storica svedese e si è messo con una ragazza americana che gli ha detto di puntare di più sul miti in Italy. E quindi, in sostanza, svan drustullare è troppo complicato. Il prodotto in Italia si chiamerà pallina scaccia stress. E chi se ne importa della Madre Svezia. E quindi, è tutto da rifare! Uuuuuh! Tutto il lavoro! Pogliano la campagna per stasera! Non lo sentite? Il brivido della competizione? No, io personalmente, io sento solo cose indicibili uscire dal mio cervello. Io non ci credo. Una lezione di aerocombat buttata per niente. E stasera salterò anche la prepugilistica aerea. Fabio, se vuoi... Soria! Ma vorrei non mi dire che hai insegnato anche prepugilistica aerea. No, se vuoi sto andando al bar e posso portarti un cappuccino. O qualcosa di più forte. Ragazzi, tocca ricominciare da capo. Nell'open space ho allestito un letto di fortuna. Possiamo fare i turni? In attesa che a Matteo venga un'altra idea... A proposito, ma dov'è finito? Io l'ho visto di là che giocava con il prodotto. D'altronde, se c'è qualcuno che ha bisogno di una pallina antistress, quelli siamo noi. Eh, queste ultime 24 ore sono state in una Waterloo. Waterloo, mi fate morire quando impettate le parole! Si prepara un'altra bella seratina per i nostri moschettieri del futile. Una volta ho sentito dalla filodiffusione una canzone che diceva «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Forse funziona così anche nella vita. Cerchiamo qualcosa ardentemente, salpiamo per crociata appassionata nel mare dell'insensatezza e poi ci accorgiamo che quello che stavamo cercando era stabile e sorgnone nel porto dove eravamo partiti. E magari ci faceva pure il dito medio. E comunque, il nome pallina antistress l'avevamo trovato noi. Così, per dire, eh. Un nervoso! Ehi, piccola, ma… quindi sei single? Sono solo una pallina antistress. Non sono programmata per avere relazioni sentimentali. E che ne diresti di venire a cena da me? Livello di stress anomalo. Raccontare una barzelletta. Pensi di aver bisogno anche tu di una pallina antistress sempre in tasca? Nelle situazioni di stanchezza fisica e mentale c'è bisogno di validi alleati. Carnidin Plus è un integratore alimentare con carnitina e grazie al suo mix di vitamine e sali minerali ti aiuta a combattere la stanchezza e ad avere l'energia di cui hai bisogno. Carnidin, l'energia che fa per te.